Se questo sia l'uovo perfetto, non possiamo dirlo o stabilirlo, ma una cosa è certa, finirà sulla tavola dei grandi capi di Stato e governo del G7 tra pochi giorni al meeting in provincia di Brindisi. Non l'avrei mai immaginato, ma mi fa molto piacere perché credo che siano dei temi, quello dell'allevamento etico e sostenibile, da prendere sempre più in considerazione, soprattutto da chi può cambiare qualcosa. Siamo nelle campagne di Cutrofiano perché è qui che c'è l'allevamento di Giulio Apollonio, 38enne, che da sempre si dedica al lavoro in campagna alle sue piccole amiche, circa 6.000 in tutto, capaci di deporre dalle 300 alle 1.500 uova al giorno. Abbiamo circa 6.000 galline, 500-600 galli, raccogliamo un massimo di 1.500 uova nel periodo primaverile-estivo, essendo un allevamento all'aperto la produzione è prevalentemente stagionale, quindi in inverno poi la produzione cala tantissimo, fino a raccogliere anche solo 200-300 uova. Nessuna gallina viene sacrificata, qui nessuna venduta, nessuna mangiata a Cutrofiano. In questo allevamento le galline muoiono di vecchiaia. Giulio, figlio di due docenti di matematica oggi in pensione, voleva laurearsi in biotecnologia. Oggi alleva galline in quattro ettari di prato all'unico scopo di raccogliere le loro uova. Un allevamento come tanti, che se ne vedono in Salento, ma che permette a Giulio di commerciare le uova anche a Parigi, Madrid, Bruxelles e addirittura nella Repubblica Ceca, perché le sue uova sembrano avere qualcosa di particolare. Aver voluto dare la possibilità a questi animali di esprimere al 100% quello che sono i loro istinti naturali. Prima di andare via, una domanda, non possiamo esimerci dal farla, un atavico dilemma che lui forse può svelare. È nato prima l'uovo o la gallina? È nato prima l'uovo, ma non quello di gallina.